Un monitoraggio biologico sul fiume Castro che attraversa in più punti la città di Arezzo. Questo monitoraggio è stato eseguito in quattro stazioni, Molinelli, La Parata, Via Fiorentina e Montione. Ebbene, che cosa ha dimostrato questo monitoraggio biologico? Che il fiume, dopo aver attraversato tutta la città e aver ricevuto tutti gli scarichi urbani, ancora non allacciati al collettore fognario, presenta il grado di qualità 5, che è equivalente ad un'acqua fortemente inquinata. Dunque è una qualità variabile ma inquinata dell'acqua e questo è abbastanza preoccupante. Inoltre c'è il fenomeno della zanzara Tigre, ce ne eravamo occupati qualche settimana fa, perché l'acqua ristagna, qui siamo in zona parata e la situazione non è cambiata. L'acqua continua a ristagnare, malgrado ci sia una ordinanza comunale che è stata fatta per evitare il fenomeno delle acque stagnanti, a seconda del tipo di zona pubblica o privata. Nel caso di corsi d'acqua si parla di soggetti pubblici o privati, gestori dei corsi d'acqua che hanno l'obbligo di curare la manutenzione degli stessi corsi d'acqua per evitare ostacoli al deflusso delle acque stesse, mantenere le aree libere da rifiuti o altri materiali che possono favorire il formarsi di raccolte stagnanti d'acqua, eliminare le eventuali sterpaglie. Però queste ordinanze chi le deve far rispettare? Perché l'acqua ristagna e quindi oltre ad essere inquinata, poi c'è il fenomeno della zanzara Tigre. Qui siamo dove il castro dovrebbe proseguire, anche se adesso è tutto prosciugato. Siamo tra il parco Ducci e la ferrovia, quasi in zona via Marco Peregno. Qui c'è un'altra problematica, cioè il fenomeno dell'erosione degli argini durante il deflusso delle acque, che porta a un indebolimento e un allargamento degli argini, questo a danno anche delle abitazioni limitrofi.